Notizia che mi è arrivata oggi, che mi ha fatto molto piacere, un film sulla vita del nostro storico e grande allenatore bianconevo Marcello Lippi al Cineteatro La Providenza di Vallo della Lucania. Internamente alla sala la mostra dei cimeri della Juventus a cura del nostro amico e fratello Bianconero o Nello Cervone. Lo spettacolo unico sarà mercoledì 28 febbraio alle ore 20 e 30, quindi da non perdere questa importante visione del film del nostro storico allenatore Marcello Lippi.